L'autista che mi accompagnava a Montebotti, sobbalzando brusco sulla strada con la sua grossa macchina, scavallava le colline di olivi e cipressi. Leonida è una bambina, il libro comincia che lei è una bambina, che non ha amore. Nessuno ama questa bambina, non è desiderata e questa mancanza di amore le condizionerà tutta la vita, tutta la vita fino a farla diventare a un certo punto una persona senza sentimenti. Praticamente cercherà di trovare un modo per non soffrire, per non sentire più questo dolore che le provoca e ci riesce, ci riesce ma diventerà una persona senza provare non più il dolore ma neanche più la gioia, l'entusiasmo, la passione, tutto quello che fa parte di noi e quindi questo la farà diventare una statua di marmo, tutto liscivola di dosso e apparentemente sembrava fortunata perché non prova più il dolore, quindi anche le cose tragiche che le succedono lei le attraversa così. Poi a un certo punto invece la sua vita la porterà a riscoprire tutto quello che è un essere umano, quindi compreso anche il dolore di cui non si può fare a meno. Da dietro a ogni curva si presentava a miei occhi meravigliati una natura potente che continuava a resistere a tutte le avversità, spettatrice impassibile delle tragedie umane. Ascoltare qualcuno che legge è molto affascinante, è come un risucchiarti dentro una dimensione, un mondo che un altro che legge cerca di comunicarti. Trovo che sia molto bello, è un trasmettere anche, fa scoprire anche le emozioni che ci sono dei personaggi di un libro, attraverso quello che sente uno piuttosto che un altro, quindi è uno scambio. E poi è un fatto anche un po' diciamo ipnotico, no? Se una voce riesce a prenderti, ti porta dentro a una dimensione un po' così onirica, da sogno, da... Penso che arrivi, arrivi ancora di più ecco quello che c'è magari in un libro.